Quindi avete approvato il consuntivo del 2014? Sì, abbiamo approvato il consuntivo del 2014 all'unanimità, anche la minoranza ha votato a favore. Con un avanzo di amministrazione sostanzioso? Sì, 396 mila erotti euro, dovuti al primo trimestre del 2014 dell'amministrazione precedente, gli altri sei mesi nostri, con un mese di pausa per le elezioni. Un risultato che è positivo e ovviamente con questo non vuol dire che abbiamo 390 mila euro da spendere perché il patto di stabilità ci obbligherà a ridurre le nostre aspettative. All'orizzonte ci sono nuovi tagli? Purtroppo sì, è proprio di questi giorni un taglio che va a toglierci almeno 96 mila euro di trasferimenti. Il discorso è che in previsione ne avevamo una cinquantina nuova di questi giorni che sono passati a 96 mila. Faremo ancora degli sforzi e dei sacrifici affinché anche in questo anno riusciamo a mantenere un bilancio degno di un comune come il nostro. Dove si potrebbero fare delle economie ancora? Economie oppure siamo uno dei pochi comuni dove non viene applicata la tasi. Le alternative non sono molte. O aumentare le tasse, cosa che assolutamente non vogliamo fare, oppure economie che riguardano una gestione magari più oculata dei contributi dati alle associazioni. Con questo non voglio dire assolutamente che interveremo solo e esclusivamente lì perché il sociale e le attività sportive per parre sono fondamentali. D'altro canto potremmo pensare anche a risparmiare in altri campi come potrebbe essere l'aspetto edilizio, nel senso che abbiamo tutto e quindi in questi anni qua provvedere alla manutenzione ordinaria e non prevedere grossi progetti. Oppure qualora otteniamo dei bandi, vincessimo dei bandi, potremmo provvedere anche ad ampliare i nostri beni pubblici. Avete espresso parere favorevole per quanto riguarda il conto consuntivo del 2014? Sì, abbiamo espresso parere favorevole perché è chiaro che i risultati di questo conto consuntivo provengono anche dalla nostra azione amministrativa perché il Comune l'abbiamo gestito fino alle elezioni di maggio del 2014. Quindi tutte le scelte che sono state fatte, che secondo me hanno portato a quel consultivo molto positivo perché abbiamo verificato per quello che riguarda il modo molto pronto dell'amministrazione comunale e della gestione di provvedere i pagamenti degli impegni che ha e questo è importante perché vuol dire che l'azione amministrativa è un'azione efficace e poi per quello che riguarda anche il discorso legato poi agli obiettivi che sono stati raggiunti. Quindi è chiaro che le scelte fatte dall'amministrazione Ferrari, se mi permettete, devo dire, specialmente in molti settori hanno dato dei buoni risultati e troviamo un'amministrazione con un avanzo di amministrazione di circa 396 mila euro chiaramente ma che si trascinano dietro un 237 mila euro che sono l'avanzo di amministrazione dell'amministrazione Ferrari. Quindi non potevo che esprimere un voto di approvazione perché riguardava in parte, in modo sostanziale, anche la mia amministrazione.